Allora, da qui al 2032 noi speriamo di trovare un Livorno dove quando entri nell'istituzione finalmente ci trovi cittadini di origine africana, magari un questore di origine senegalese o un responsabile dell'ufficio straniero di origine marocchina o un sindaco addirittura nigeriano. Cioè può sembrare utopia ma noi vorremmo costruire un Livorno da qui al 2032 che riesce a offrirci scenari del genere.